Salve a tutti, è Harry Doyle che vi parla e che dà il bentrovato a tutti i tifosi in ascolto per la prima trasmissione dell'anno sulla nostra tribù. Come sapete, il risultato degli Indians nell'ultima stagione è stato miracoloso. Anche se la velenosa proprietaria della squadra che risponde al nome di Rachel Phelps voleva che la tribù perdesse per spostarli in Florida, gli Indians sono arrivati primi nel campionato nazionale per la prima volta nella storia. Ora la strega se n'è andata, grazie a Dio!